e potete ragazzi sono lucas e petroate sul mio canale e oggi siamo qui con un altro video nonostante capito che non abbia raggiunto 5 mi piace vi porto lo stesso un bellissimo video di minecraft benessi ragazzi il secondo episodio adesso vi lascio al gioco ma mi raccomando cerchiamo di raggiungere almeno di 5 mi piace per un prossimo episodio di minecraft o addirittura di fifa link in descrizione per fifa per acquistarlo insomma vabbè comunque andiamo ragazzi sposto un po la webcam ed ecco qua il mio personaggino ragazzi tutto felice perché quest'oggi ragazzi andremo ufficialmente questa fortezza qui ragazzi e poi vorrei magari dare un'occhiatina queste isolette e poi magari possiamo costruire anche una bella casa adesso vedo comunque prima ho fatto ho giocato un po off camera e ho già esplorato tutta questa fortezza lo so scusate ragazzi non volevo esplorare quindi andiamo direttamente a sto punto ad esplorare la sopra perché è la parte che mi incuriosisce di più lancio perfetto ah si ragazzi lancio perfetto nooo sono finito aspettate che prendo la mira questa volta dovrei essere no 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 vado nella lava quanto la lava di minecraft se c'è meno più che non essere la con il leather capito ma poi guardate di quanto cavolo sono andai è tutto distante era molto strano la situazione ero dentro il blocco ok raga andiamo cosa ci va ok andiamo ok passo qua di fare almeno un cartellino per quanto è il nostro comportevole è certo comunque penso che se noti che ho giocato a camera avete visto no? quanta roba ho nel inventario non me la sono preparata io ragazzi ho dovuto picchiare maiali e maiali e maiali e maiali e maiali e maiali per ottenere questa roba ragazzi mi raccomando ragazzi niente che avanza sugli animali sono i nostri amici teniamo questo bel portellino e torniamo le lezioni le lezioni le lezioni le lezioni le sentiamo subito a giorno ragazzi intanto mi giro per guardare la webcam perchè ho paura che non si veda bene comunque torniamo con un bel portellino adesso facciamoci due minuti una cassa è una casa cassa ci sono già 4 minuti di video ragazzi no no bellissimo gigantissimo mi so ci potessero se potessero invece no il posiamo la roba che abbiamo guadagnato dunque da nether ragazzi niente questo non è il materiale che ci sarebbe per costruire questa è la tutta la nostra roba aspettate che mi tolgo tutta questa roba che fa un calmo anche su minecraft ma mi è tutto scusate ragazzi che è stato l'uomo rosso cos'è questa roba? c'è un cennino ho capito dobbiamo completarlo è rarissimo magari questo portale ci porta da qualche parte è rarissimo è rarissimo raga sto portale c'è penso che veramente nessuno youtuber abbia mai visto questo portale perché è un portale veramente veramente molto molto raro è rarissimo ma non va è vero perché l'ossiliana piangente interrompe la roba dove ci porta molto molto di relazione nether ci deve portare e adesso posso spostare antropa avta no 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 un'altra parte ragazzi che sta succedendo con quel video è assurdo però io raga lo sapevo che succedeva così vabbè raga ci vediamo domani bella raga